Salome è un'opera rivoluzionaria, possiamo dire la prima opera moderna, l'opera probabilmente che ha iniziato un cambiamento nel senso del melodramma inteso in modo tradizionale, un linguaggio molto più crudo, un linguaggio molto radicale, quindi un'opera dal punto di vista storico e musicale estremamente importante. Siamo in un mondo antico, lontano, arcaico, dove questa storia in fondo nasce perché è una storia biblica e Oscar Wilde lo sapeva bene e tutto sommato ne era tratto e ha voluto mischiare l'arcaicità di questa storia con lo scandalo che voleva dare in quel periodo a una borghesia che lui non amava. E io ho rimesso questa storia in un mondo antico, dove si contrappone l'oro delle passioni umane, delle debolezze umane all'argento e della purezza della luna.